benvenuti all'appuntamento con art impresa eccovi il sommario i mestieri dell'arte fra tevere ed arno è il servizio che ci permetterà di proporvi l'artigianato artistico in mostra al museo maec di cortona continueremo con un seminario dedicato ai rischi del credito per concludere incontrando direttamente un artigiana certo esporre al maec di cortona è una cosa che dà soddisfazione veramente sì moltissimo e tra l'altro io esprimo questa soddisfazione perché attraverso proprio il patrocinio del comune di cortona abbiamo potuto esporre questi lavori dell'artigianato artistico territoriale in un accolti in un palazzo bellissimo come palazzo casale che è una delle mete turistiche più ambite dagli stranieri che frequentano cortona e l'artigianato artistico continua a vivere grazie a voi ma grazie anche a confartigianato che ci dedica tante tante iniziative assolutamente sì perché il progetto proprio i mestieri dell'arte tra tevere e arno è nato con questo precipuo scopo la protezione la conoscenza e la valorizzazione delle ditte artigiane che tra l'altro sono le uniche ancora a come dire produrre oggetti unici legati fortissimamente alla nostra tradizione che si tramanda da tanti secoli e se noi non uniamo le nostre tradizioni al made in Tuscany che ovviamente è un appeal formidabile per gli stranieri rimaniamo a metà del guado assolutamente perché poi in un contesto storico come questo dove abbiamo globalizzazione dei mercati omologazione dei mercati invece la riscoperta del nostro artigianato delle nostre eccellenze è fondamentale anche per riacquistare la nostra dignità e la nostra identità culturale assolutamente ecco perché voi sempre insieme a confartigianati imprese Arezzo partite dalla scuola con il progetto che avete ormai avviato da molti anni sì 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 al quale io aderisco sempre con grande felicità anche perché mi diverto oltre a essere utile a me e agli altri spero ma è un motivo anche di veramente di soddisfazione di divertimento tra le altre cose apposta le nostre associazioni artigiane sono impegnatissime a far conoscere queste botteghe artigiane perché attraverso la conoscenza c'è tutto la valorizzazione e quindi ripeto e insisto e sottolineo la protezione rilanciare l'artigianato soprattutto quello tradizionale e artistico è un po' una missione per una banca come quella di Cortona non potrebbe essere altrimenti su questa mostra su questa bellissima iniziativa delle due associazioni dell'artigianato gli elementi ci sono un po' tutti c'è l'arte c'è la sapienza dei nostri bravi artigiani c'è il turismo che comunque fa sempre un buon connubio con l'arte e c'è anche la banca locale e la banca pololare di Cortona noi da sempre nella nostra storia abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere le piccole imprese e le attività artistiche quindi il progetto si sposa benissimo con quella che è la nostra missione e quello che è il nostro intento di continuare a valorizzare e comunque a promuovere ulteriormente il territorio e la sua economia Per gli artigiani come per tanti erettini l'argomento dell'aperitivo di questa sera è un argomento particolarmente caldo e i rischi del credito Esattamente, alla luce di quello che purtroppo sta succedendo in questi giorni è assolutamente fondamentale accendere luci appunto su un aspetto importante e fondamentale per le aziende quindi il proprio rapporto con le banche L'associazione da sempre è vicino alle aziende e proprio per questo si cerca di dare un supporto di come presentarci e come farci vedere agli occhi degli istituti di credito Ma è possibile ottenere credito senza troppi rischi? Beh, il rischio di fatto può essere da una parte per la banca, dall'altra parte per l'artigiano, l'imprenditore che molto spesso si affaccia al mondo delle banche con una preparazione, così un'organizzazione che ha sicuramente dei margini di miglioramento vista anche le nuove normative che sono entrate in vigore che stanno entrando in vigore Ma è possibile ottenere credito magari utilizzando le associazioni di categoria con fartigianati imprese in questo caso? Beh, sicuramente sì le organizzazioni di categoria hanno sia organizzazione sia preparazione quindi anche in ambito consulenziale proprio per stimolare le imprese a organizzarsi, a migliorarsi a trovare quelle giuste informazioni che poi devono essere fornite al sistema bancario per accedere in maniera consapevole e preparata al credito Magari cercare di selezionare le richieste e scegliere quelle realizzabili Beh, indubbiamente deve essere realizzabile quello che si intende fare le banche hanno certamente una lente di ingrandimento come oggi e soprattutto in questi ultimi giorni è stata posta nei loro confronti avendo indubbiamente commesso degli errori e delle disattenzioni sicuramente con delle responsabilità che vanno identificate che andranno identificate e ovviamente l'artigiano e l'imprenditore il tessuto produttivo del nostro paese a maggior ragione è qui dove ci troviamo in Toscana, nella zona dell'Aretino deve essere posta attenzione a che cosa? Al passato, a come è stata la condotta in qualità di impresa con le banche e avere un atteggiamento costruttivo, non distruttivo presentandosi con tutte le connotazioni, le caratteristiche facendo maggiore attenzione a delle dinamiche che fino ad oggi sono state tenute così in disparte come la centrale Rischi, oggetto della tematica appunto di questa sera Come nasce l'idea di trasformare oggetti di tutti i giorni in oggetti personalizzati? Con l'esperienza di lavoro da tanti anni che noi si faceva questo lavoro e poi ci è venuta la brillante idea di aprire questo laboratorio Ecco perché qui le macchine aiutano ma se non ci fosse la capacità di ricamare questi sarebbero oggetti come se ne potrebbero trovare tanti Eh quello sicuro, infatti noi si fa tante cose personalizzate lavori che ci chiedono poi lei è bravissima a ricamare quindi viene fuori un bel lavoro insomma Per le feste poi avete avuto l'idea uno va a scena fuori e porta una torta e avete trovato il sistema di portare la torta in maniera elegante Il contenitore porta torta infatti con tante fantasie sia rotondo che rettangolare e possono contenere sia le diciamo le teglie rotonde, quadrate e rettangolari appunto Ci sono cose per bambini sicuramente? Abbiamo di tutto, a farsi dal bambino che possiamo personalizzare sia il bavaglino con il nome o con la scritta tipo la mamma mi ha fatto bellissima, sono un bimbo speciale, quello che uno vuole a farsi dal bagno poi con i nomi, con le cifre, coppiette di asciugamani, accappatoi, tutto quello che vuole e poi la nostra specializzazione sono le tendine fatte su misura di qualsiasi misura, di qualsiasi tipo con ricamo, senza ricamo, con i pizzi e quant'altro e poi abbiamo anche un vasto assortimento di cuscini come lei può vedere che uno può anche richiedere un disegno personale e questo naturalmente non vale solo per i cuscini ma vale sia per le tovaglie sia per le tende, più o meno ecco riusciamo a fare quasi tutto Beh però la capacità di un artigiano si vede sempre rispetto a quello che può fare l'industria, la grande industria Penso di sì, insomma si vede la differenza tra una cosa artigianale, fatta artigianale e una cosa comprata a stock insomma in grandi quantità si vede che la nostra è una cosa artigianale, insomma i nostri lavori si vedono Insomma avete riscoperto uno dei lavori della nonna? Più o meno sì Siamo nonne Siamo anche nonne appunto Sì